salve a tutti ragazzi buongiorno buongiorno a tutti voi oggi facciamo questo glocal mattiniero è un po tardi quindi cercherò di farlo molto stringato molto corto tutto quanto dedicato alla politica estera tutto dedicato a quello che sta succedendo intorno al mondo dell'italia parleremo o domani o nei prossimi giorni oggi parliamo di brasile e parliamo del dramma che sta vivendo asia bibi asia bibi la cristiana pakistana che è stata assolta dai giudici pakistani musulmani ma che ora rischia di essere praticamente uccisa per mano di estremisti islamici in pakistan partiamo con il brasile il brasile bolsonaro che era definito da tutti quanti un fascista pericolosissimo uno che avrebbe rovesciato lo stato democratico uno un ammiratore di hitler uno che parlava male dei gay parlava male dei qualsiasi cosa lo hanno accusato di qualsiasi cosa il buon bolsonaro ragazzi seguirà le orme di donald trump sposterà almeno così ha detto e dopo vediamo per dire il fare c'è di mezzo in mare dicevano gli antichi ora bolsonaro sta spostando l'ambasciata brasiliana in israele da tel aviv a gerusalemme ora vi direte no può un fascista può un nazista come primo viaggio istituzionale andare a trovare netanyahu in israele punto di domanda e quindi qua vediamo tutta quanta l'inutilità di certi commentatori in italia e all'estero che si sono riempiti la bocca per per mesi e per giorni prima delle elezioni in brasile di fascismo di di bolsonaro che hanno detto che era un pericolo per la democrazia e tutte quelle altre panzane a cui siamo abituati che siamo abituati a sentire ogni volta in realtà tutto questo era semplicemente un cumulo di puttanate chiaro e tondo è chiaro e tondo puttanate e bolsonaro ora non è è tutto allora la distanza la distanza fra il detto quello che ha detto bolsonaro e quello che farà gazzimone per il messaggio la distanza fra quello che bolsonaro ha detto e quello che farà dobbiamo vedere intanto il messaggio politico che manda bolsonaro è questo bolsonaro appartiene all'occidente dopo anni in cui il brasile è piombato in una dittatura pseudo socialista anzi socialismo reale è vero perché non c'è nessun socialismo che non porti povertà perché socialismo uguale a povertà socialismo uguale mancanza di libertà questo è quindi il brasile diventa nel consesso delle nazioni occidentali a buon rendere e a ragione il brasile è un importantissimo stato del sud america la più grande democrazia del sud america imperfetta quanto volete ci mancherebbe ma quella in brasile l'equilibrio dei poteri è talmente forte che hanno potuto destituire un presidente forte come lula un presidente sostenuto da ampissimi strati della popolazione brasiliana detto questo passiamo invece al medio oriente passiamo ad asia bibi asia bibi fu condannata da un tribunale semplicemente per una questione legata ad un bicchier d'acqua ma veramente un bicchier d'acqua e è successo che fu condannata a morte addirittura per crocifissione quindi torniamo veramente indietro di 2000 anni 2033 anni è successo che dei giudici illuminati in pakistan l'hanno diciamo scaccionata hanno detto che era innocente adesso i vari estremisti musulmani pakistani non solo sono scesi in piazza per chiedere la testa di asia bibi sono scesi in piazza per chiedere la testa dei tre giudici che hanno assolto asia bibi quindi quindi ovviamente siamo in una bolla di estremismo in una bolla di di morte e di sangue che non finisce più e io mi chiedo in questo momento no in cui il mondo è il mondo le varie elite liberal mondiali sono occupate con il me too movement con il sostegno alle donne con il sostegno alle le donne sfruttate alle donne eh violentate dagli uomini tutto giusto perché nessun paese occidentale perché l'italia non si mobilita per dare asilo politico ad asia bibi salviamo asia bibi meno puttanate salviamo asia bibi perché la storia ce ne renderà conto ok perché ha voglia qui a parlare di me too movement ha voglia qui a parlare di 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 femminismo se poi nel medio oriente c'è una donna una giovane donna che rischia di essere uccisa per via extra giudiziale solamente perché al comando c'è un estremismo musulmano questo è il punto quindi l'occidente si mobiliti per salvare per salvare asia bibi detto questo ragazzi per oggi finisce qui molto breve purtroppo vedete l'ora devo anche andare andare via ci sentiamo domani o nei prossimi giorni per parlare di politica italiana per parlare degli degli sviluppi della legge di bilancio per parlare di tante altre cose interessanti ci sentiamo ciao a tutti se a siccome siamo sempre gli stessi che ci vediamo questo video ampliamo un po la platea delle persone se vi piace mettete sotto like se vi piace condividete questo video e potete vedere questo video su youtube sul mio sito www.mircogiordani.net detto questo arrivederci ciao ciao